La Sardegna al Festival delle Regioni, ribadito l'impegno centrale nell'ambito della transizione energetica. Ancora Maurizio Ciotola. Il terzo Festival delle Regioni e delle Provincie Autonome, tenute Sia Bari, ha come tema il futuro tra digitale e green. Quali competenze per azzerare le distanze? Oggi, ultimo giorno della Kermes, il Festival si è concluso con gli interventi di alcuni Ministri della Repubblica e una tavola rotonda sull'azzeramento delle distanze tra le regioni e su come e quanto investire sulle nuove competenze. La Presidente della Regione Sardegna, presente al Festival con l'Assessora degli Affari Generali, Marilena Mozzo, è intervenuta sul tema principale del Festival, la transizione energetica, ricordando che la Regione Sardegna è stata la prima a definire regole certe nell'ambito dell'individuazione delle aree idonee per le fonti rinnovabili. Ha richiamato anche la moratoria sull'installazione dei siti di produzione da fonti rinnovabili, che però è stata impugnata dal Governo nazionale perché ritenuta in contrasto con le prerogative nazionali in campo energetico. La Presidente Todde ha ricordato che in Sardegna il 70% dell'energia necessaria al fabbisogno isolano è prodotto concentrare a carbone e a singas, con scarti di raffinazione dal petrolio. L'assenza del metano causato dal fallimento delle politiche energetiche regionali del passato ha determinato un costo energetico zonale del 30% più elevato rispetto al resto d'Italia. Non ultimo, il manifesto impegno di investire sull'energia ed elettrica da parte della Regione con un ruolo primario attraverso un'azienda creata ad hoc.